Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Prestare attenzione al personale sulla strada per lavori tra Empoli Ovest ed Empoli in direzione Firenze ed in uscita a Ponte d'Era Est provenendo da Firenze. Sulla strada regionale Due Cassi assenso unico alternato e restringimento di carreggiata tra i chilometri 291 e 291 e 550 nel comune di Impruneta. Sulla strada regionale 65 della Futa assenso unico alternato per lavori al chilometro 16 e 100 nel comune di Vaglia. Infine per quanto riguarda gli aerei il volo Ryanair da Pisa a Valencia delle 14 e 10 partirà in ritardo alle 16 e 15. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!